Ciao a tutti gli studenti del Casnati Linguistico, mio nome è Leonardo Balbi, sono stato studente in passato e oggi vi racconterò brevemente qual è stata la mia esperienza dopo il liceo linguistico. Ho deciso di studiare lingue perché sapevo che mi avrebbe dato la possibilità poi di studiare all'estero e di lavorare all'estero, che era quello che volevo. La preparazione del Casnati è stata ottima, è stato 5 anni molto intensi ma anche sicuramente mi hanno dato tutte le basi per proseguire il mio futuro all'estero. Dopo la maturità ho deciso di proseguire non strettamente con le lingue ma diciamo applicare le lingue al nuovo settore ho deciso di laurearmi in scienze internazionali diplomatiche presso l'Università di Trieste con sede a Gorizia. È stato un corso molto molto interessante, molto utile, in cui le lingue giocavano ancora un ruolo particolarmente importante, specialmente francese ed inglese, però erano applicate al contesto internazionale, allo studio di economia, scienze politiche in generale e relazioni internazionali. Mi sono laureato con 110 Lode. Terminati i miei studi a Trieste volevo fare il salto di qualità, davvero andare a lavorare e a studiare all'estero, ho avuto una piccola parentesi col progetto Erasmus appunto durante la triennale, sono andato sei mesi a Istanbul e ho proseguito verso l'Asia, cambiando di nuovo settore diciamo, non ho proseguito con le scienze diplomatiche, ma ho deciso di concentrarmi più sull'aspetto del business. Ho vinto una borsa di studio, si chiama Korean Government Scholarship Program, offerta dal governo coreano e mi ha dato la possibilità di andare a vivere in Corea del Sud. Per un anno ho studiato la lingua coreana nella città di Gwangju, nel sud della Corea, poi per due anni ho seguito il Master di Global Economy and Strategy presso la Yonsei University di Seoul. Mi sono laureato due anni dopo, primo del mio corso, con un'ottima preparazione dal punto di vista del business management, dello strategy o comunque economia o diciamo in generale business administration e durante il mio Master lavoravo come internship presso la Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud e successivamente dopo la laurea magistrale sono diventato Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Corea che è un ruolo che tuttora svolgo e la Camera di Commercio si occupa di cercare di incontrare la domanda e l'offerta tra le piccole e medie imprese italiane e coreane. Quindi attualmente il mio lavoro consiste nel definire la strategia dell'azienda, gestire i progetti e cercare di ampliare, di allargare questi legami economici che uniscono la Corea del Sud e l'Italia. Tornando indietro credo che la scelta del Casnatis sia stata una scelta ottima perché le lingue sono uno strumento fondamentale, ti danno la possibilità di posticipare la scelta del settore nella quale ti vuoi specializzare ma allo stesso tempo sono uno strumento concreto che rimane utile per sempre e ti possono anche dare un metodo per poi studiare lingue più complesse come per esempio il coreano, almeno nel mio caso. Quindi questa è stata la mia storia, vi auguro un futuro promettente e sono sicuro che con impegno tutti voi riuscirete sicuramente a raggiungerlo.